Ciao Gucci, speriamo di tornare presto e farci tante risate insieme come facevamo quando eravamo insieme e non c'era questo problema. Torniamo il più carichi possibile, forza Gucci! Un saluto a tutti, forza Gucci! Ci rivediamo al più presto, Gucci 2006 è imbattibile! Ciao a tutti ragazzi, puro un saluto al mister e spero che ci rivedremo al più presto per fare una partitella. Ciao ragazzi, mi mancate tutti e mi manca giocare con voi, spero che presto possiamo tornare ad allenarci così possiamo diventare ancora una squadra più forte. Un saluto anche al mister e sempre forza Gucci! Ciao raga e sempre forza Gucci! Ciao raga, ciao mister, speriamo di rivederci presto e giocare tutti insieme, forza Gucci! Ciao ragazzi, un saluto a tutti i Gucci, speriamo di tornare presto e di rivederci e di stare insieme, ciao! Ciao ragazzi, speriamo di rivederci presto ma per adesso stiamo a casa che quando finisce questa quarantena andiamo a portarci a casa il campionato! Forza Gucci! Ciao ragazzi e ciao mister, non vedo l'ora di rincontrarvi in campo e fare una bella partita! Forza Gucci! Bella raga, anche in quarantena, sempre! Forza Gucci! Ciao ragazzi, spero di rivedervi il più presto e di tornare a giocare a calcio insieme, forza Gucci! Ciao ragazzi, mi mancate moltissimo, non vedo l'ora di ritornare in campo, forza Gucci! Bella raga, non vedo l'ora di tornare in campo con tutti voi e sempre forza Gucci! Ciao ragazzi, spero di tornare bene, forza Gucci! Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Lollo e a settembre quando torneremo, torneremo a giocare come prima e batteremo ogni squadra che incontreremo. Forza Gucci! Ciao mister, ciao ragazzi, spero di tornare presto a giocare con voi, forza Gucci! Vai ragazzi! Bella raga, mister tranquillo che dopo questo periodo ripartiremo molto più forti di prima! Ciao ragazzi, spero e immagino che siate tutti bene, ritengo superfluo dirlo ma ve lo dico lo stesso, mi mancate tanto tutti, mi manca il lavoro che facciamo, anzi che facevamo durante la settimana sul campo, mi mancano le partite del sabato, seppur con le loro difficoltà ma con altrettante emozioni che mi davate. Spero di potervi riabbracciare presto, come facevamo quando ci incontravamo la sera al campo o prima di ogni partita. L'augurio è quello di riavervi tutti, l'intero gruppo del 2006, per poter ricominciare lì dove abbiamo terminato il lavoro per colpa della pandemia. Quindi vi aspetto, spero presto, vi lascio un abbraccio forte, forza Gucci 2007!